Ciao da Avsim! Buongiorno, buongiorno a tutti in questo 30 gennaio in cui Massimiliano Allegri non si è dimesso e non è stato esonerato. Va benissimo così, ma qual è il problema? Perché doveva dimettersi? Perché doveva essere esonerato? Ma mica è colpa sua! Non è colpa sua! Anzi, poverino che deve lavorare con questi scarsoidi, ma vi rendete conto che squadraccia gli hanno dato? E hanno pure speso un sacco di soldi per farlo, veramente, povero Max, povero Max, anzi, è colpa della situazione, è colpa del contesto, perché se anche Di Maria, che ha vinto tutto, dice che è difficile giocare addosso alla penalizzazione, e allora, ragazzi, ma cosa criticate? Ma poi, bisogna essere uniti, uniti, come ha twittato la Juventus dopo la fine della partita, uniti fino alla fine, l'aveva twittato, l'aveva postato anche prima, certo, dobbiamo essere uniti, compatti, non ci dobbiamo sciogliere, non dobbiamo andare a contrastarci, dobbiamo essere tutti dalla stessa parte, tutti dalla stessa parte della barricata, quindi, se a me non sta bene quello che fa l'allenatore, devo stare zitto, eh, devo stare zitto, devo essere unito all'allenatore, capite? Cioè, se io non mi unisco al coro unanime, se non mi unisco alla narrazione di quella parte lì, non sono Juventino, E quindi, il problema poi sono io, il problema siamo noi tifosi che osiamo, osiamo essere stanchi, essere stufi, sentirci frustrati, contrariati, e magari anche osiamo lamentarci, no, no, non ci si lamenta, al massimo si possono fare delle critiche costruttive, tipo quelle che abbiamo fatto per mesi, da un anno e mezzo, e che non venivano ascoltate, anzi sono state calpestate, perché se facevi le critiche costruttive, ti dovevi vergognare perché non eri un vero tifoso, perché bisogna sostenere la squadra, soprattutto nei momenti di difficoltà, e quindi non potevamo fare le critiche costruttive quando le abbiamo fatte, adesso che abbiamo tutti il diritto di lamentarci, dobbiamo fare le critiche costruttive, che quando le facevamo non andava bene, e quindi dobbiamo essere uniti, dobbiamo essere uniti, quindi via tutte le critiche, basta, dobbiamo essere uniti, sostenere la squadra in questo momento, poi se Allegri ha delle colpe, che non ha, chiaramente, povero Max, la colpa poi diventa nostra, che osiamo criticarlo e far notare che forse, che forse un allenatore che riduce una squadra in questo stato, dovrebbe perlomeno avere la dignità di fare un passo indietro se qualcuno non glielo fa fare, e quindi buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a Guido Vaciaco e Tutto Sport, buongiorno a Sandro Sabatini su Mediaset, buongiorno a Claudio Zuliani, buongiorno a Gianni Balsarini, buongiorno a Ivan Zazzaroni, buongiorno a Fabio Caressa, buongiorno a Everett Juventino Guy, cari amici, e buongiorno a tanti altri, tanti che in tutti questi mesi ci hanno sempre, quotidianamente, costantemente, ricordato, ove mai lo dimenticassimo, che Max è il migliore, e siccome Max è il migliore, non lo dobbiamo criticare e adesso dobbiamo stare uniti e dobbiamo pure stare zitti. Io dico buongiorno perché davvero dico buongiorno, cioè davvero, io vorrei anche essere, vorrei che mi insegnassero la vita queste persone, nel senso che tanto loro hanno sempre ragione, quindi io ho sempre torto, noi abbiamo sempre torto a lamentarci, a criticare, quindi a questo punto io lascio anche il posto se volete, lascio la telecamera, lascio il microfono, lascio il video, lascio il canale, parlate voi, parlate voi e oggi, cari, ci spiegate, però ce lo dovete spiegare, spiegare, quindi intanto ovviamente vi invito ad ascoltare tutte queste persone, non a non ascoltarvi, vi invito ad ascoltare tutti quanti, oggi, cari amici, ci dovreste spiegare, se volete, da bontà vostra, spiegare, ma proprio spiegare e argomentare, ripeto la stessa domanda, che cosa ha dato di positivo Massimiliano Allegri alla Juventus in un anno e mezzo? Prego, la pagina è bianca, anzi, vi diamo tutti i fogli aggiuntivi supplementari di cui avete bisogno per scrivere il temino, perché immagino che abbiate tantissime cose da dire, no? Tantissime argomentazioni, tantissime motivazioni, tantissime cose da elencare, per cui Allegri va elogiato ancora e va protetto, e non è colpa sua, avete le vostre pagine bianche, prego, spiegate, però dovete spiegare, spiegare, senza insultare, senza dividere la tifoseria in tifosi virtuali e tifosi reali, senza offendere con etichette tipo pupazzetto del web, senza venire fuori con delle scuse alibi ad essersi, no, vogliamo sapere, visto che Allegri è bravissimo, siamo convinti che Allegri sia bravissimo, è il migliore allenatore del mondo, l'avete detto voi, spiegateci per quale motivo, grazie, e poi verremo a leggere il vostro tema, e ci permetteremo magari anche di dissentire, è consentito? E io dissento infatti dalle prime pagine di oggi, tralasciando Corriere dello Sport, che tratta per lo più altro, e non ritengo di dover muovere delle obiezioni a Corriere dello Sport, parliamo di Tutto Sport, appunto, buongiorno Tutto Sport, buongiorno Guido Vashac, Tutto Sport, ma chi l'avrebbe detto mai? Chi l'avrebbe detto mai che oggi Tutto Sport avrebbe fatto una prima pagina con la foto di un calciatore, e quale calciatore? Bremer. Certo, perché ieri si è perso, perché Bremer ha colpito la palla di testa, mentre era in fuorigioco, se l'avesse lasciata sarebbe stato gol, e quindi non avremmo perso. Certo, diamo la colpa a Bremer, non cerchiamo di capire come può venire in mente ad un calciatore di fare una cosa simile, che tecnicamente sembra stupida, perché è un giocatore spaisato forse, perché siamo nel caos più totale, perché non sapeva neanche lui perché si trovava in quel posto, perché abbiamo attaccato alla rinfusa, totalmente a casaccio, buttando dentro palloni, buttando dentro cross, buttando dentro giocatori, cercando la qualunque, e quindi mettiamo Bremer. Bremer in prima pagina, la colpa è di Bremer. Bremer, ma chi ce l'ha venduto Bremer? Bremer ce l'ha venduto Tutto Sport, perché quando stava per arrivare Bremer, Tutto Sport, parlava di Bremer e la Juve come di una grandissima operazione. E anche lì, se facevi le critiche costruttive, ti venivano a prendere a casa, dovevi stare zitto, mica potevi dire ma che cosa state combinando 50 milioni per Bremer? 50 milioni per Bremer! E c'è ancora chi denigra delict! Ma voi vi rendete conto che noi avevamo delict e abbiamo speso 50 milioni per Bremer? E non il delict dell'anno scorso, rovinato da Allegri, ma quello di prima, quello di prima, che ci invidiava l'Europa e che infatti ci è venuto a prendere il Bayern Monaco. No, mettiamo Bremer, perché Bremer comprato a 50 milioni va benissimo, l'abbiamo soffiato all'Inter, e l'Inter adesso è in difficoltà, l'Inter adesso è in difficoltà con Skriniar, quindi abbiamo un trofeo stagionale, abbiamo messo in difficoltà l'Inter soffiando gli Bremer. Ma pure Gatti, adesso tutti diranno, ma Gatti è scarso, come Gatti è scarso? Ma non dovevamo essere uniti? Perché dite che i giocatori sono scarsi? Perché ve la prendete con i giocatori? Siamo uniti e poi mettiamo Bremer in prima pagina? Siamo uniti e poi Gatti è scarso? Ma Gatti l'abbiamo preso per soffiarlo al Torino! L'abbiamo preso per soffiarlo al Torino, così, e anche sempre nel discorso Inter, perché il Torino voleva dare Bremer all'Inter, o l'abbiamo tolto all'Inter? Adesso non ricordo, ricordatemi voi, a chi l'abbiamo soffiato? Comunque è un altro trofeo, essere riusciti a togliere Gatti alla concorrenza, essere riusciti a togliere Bremer alla concorrenza, Gatti giocava in Serie B, e quindi perché dovevamo comprarlo? No, ma Gatti, non ti preoccupare, Gatti è un colpo in prospettiva, è un giovane, Gatti è un giovane. Adesso mi venite a dire che è scarso, sono sorpreso. E appunto, la prima pagina di Tutto Sport, io, no come, cioè, Tranquillo, chi ne è, la Juve fa da sé. Allora, innanzitutto, chi ne è, chi ne è, non c'entra nulla, perché chi ne è il procuratore che ha chiesto nove punti. Casomai, capisco, capisco la rima, ma casomai te la dovessi prendere con la Corte federale. Dopodiché, Bremer in prima pagina, e leggiamo, Prestazione terrificante e umiliazione in casa contro il brillante Monza di Palladino. I bianconeri si penalizzano da soli, oggi le motivazioni del meno 15, giovedì la Lazio in Coppa e con Pogba, certo, perché ogni giorno ci devono ricordare che Pogba sta tornando. Poi però sotto c'è l'editoriale di Guido Faciaco, Allegri così non si può. E quindi, almeno qualcosina su Allegri si dice, ma dove? Guardate quanto è piccolo, guarda. Cioè, Allegri così non si può è più piccolo del nome Bremer dietro la maglia. Il nome Bremer dietro la maglia è più grande del carattere di Allegri così non si può. Quindi, da parte, è più grande il titolo sul Torino, è più grande il Milan, guardate, Allegri così non si può, poi il Milan si ritira Pioli a picco, Pioli a picco, e su Pioli e Allegri andiamo su Gazzetta, perché poi ve ne parlo anche sul mio secondo canale, Absimaut di questo aspetto, primo link in descrizione, iscrivetevi per video brevi sul calcio e sulla Juventus. Pioli si gioca tutto, guardate proprio, è chiaramente divisa, possiamo dire, due terzi un terzo, lo spazio, due terzi a Pioli che si gioca tutto, Sassuolo di Laga, Champions in bilico, vertice con Maldini, esplode il caso Leao, il ribaltone del tecnico, servono novità. E poi un terzo, Di Maria, Di Maria, Allegri accusa, Juve dominata dal Monza, virgolette, chi non riesce a pensare solo al campo sta fuori. Allegri accusa, non è Allegri viene accusato, dov'è la foto di Allegri? Chiedo a Tutto Sport e a Gazzetta, Gazzetta l'anti-Juventina sempre, ricordiamo l'anti-Juventina, Gazzetta, dov'è la foto di Allegri in prima pagina? Dov'è la foto per entrambi i giornali? Dove l'avete dimenticata? Le parole di Allegri diventano Allegri accusa? Allegri accusa, accusa cosa? Ma accusiamo noi lui, cosa accusa Allegri? Ma passiamo appunto alle parole di Allegri perché parliamo di questo, parliamo delle dichiarazioni di Allegri a Dazon e poi a JTV e in conferenza stampa, perché Allegri ha detto soprattutto una frase che ha fatto arrabbiare molti tifosi, dopo ci arriviamo e vi dico come la penso, vediamo che cosa ha detto. Ha detto che nel primo tempo così non l'avevamo mai fatto e quindi ci deve far riflettere, poi nel secondo tempo siamo andati meglio ma dobbiamo guardare il primo tempo ed essere responsabili tutti della prestazione che abbiamo fatto. Quindi si prende la responsabilità anche lui ma non dice, non ha chiesto scusa e non ha spiegato perché questo primo tempo così non l'avevamo mai fatto e l'abbiamo fatto ieri. Con l'Atalanta è stata una partita particolare, io guardo solo i dati, io guardo solo i dati, Allegri che dice io guardo solo i dati, tre partite, un punto, dieci gol subiti e sono stati anche gol abbastanza facili, cioè abbiamo concesso gol facili agli avversari come oggi. Il Monza ha fatto un buon primo tempo ma ha facilitato da noi, non si può prendere gol da fallo laterale, siamo usciti, lì sono usciti con facilità disarmante, abbiamo 38 punti ma al momento sono 23 quindi dobbiamo essere consapevoli della classifica che abbiamo e quindi ha già cambiato versione ma dopo lo spiega perché ha cambiato versione rispetto al pre Monza e rispetto ai giorni scorsi. Ma perché dice non si può prendere gol su rimessa laterale? Perché il problema è la rimessa laterale, guardate il fatalismo, sempre andare a ridurre al singolo momento, all'episodio minuscolo, senza spiegare tutto quello che è venuto prima. Il problema è che hai preso gol su rimessa laterale, non come stavi schierato, non che magari eri troppo basso, non che magari hai concesso la rimessa laterale, non sei riuscito a batterla, non sei riuscito a tenere il possesso e che per sostanzialmente su 95 minuti, per 80 minuti interi il Monza ti ha dominato. No, il problema è la rimessa laterale e quindi colpa ai giocatori, colpa ai giocatori. Parecchio lenti, siamo stati parecchio lenti e senza forza di reazione dopo il gol annullato a loro nel primo tempo e quindi è stato un primo tempo in cui siamo stati poco reattivi, poco cattivi e quindi dobbiamo rientrare dentro la stagione. Contro il Napoli e contro l'Atalanta abbiamo fatto prestazioni con gol presi non all'altezza, a livello mentale, a livello mentale. Non si deve perdere, ma siccome si può perdere, quando si perde si deve perdere in un altro modo. Il secondo tempo abbiamo avuto un atteggiamento diverso. Quindi conta la prestazione, si deve perdere in un altro modo, con un'altra prestazione. Ma tra questa prestazione e le vittorie 1-0, 2-0 con i clean sheet, non c'è nessuna differenza. Non c'è nessuna differenza. E qualcuno lo faceva notare. Guardate che stiamo giocando da schifo, stiamo giocando da schifo, prenderemo le imbarcate, inizieremo a perdere punti. Poi, purtroppo, la sfortuna, non lo so, dite voi cosa, ha voluto che ci siamo trovati a prendere gol e a perdere punti, proprio dopo la penalizzazione, ma se fosse stato il contrario non sarebbe cambiato nulla. Sempre 23 punti sarebbero stati. Solo che non ci sarebbe stato l'alibi della penalizzazione. Cioè, se avessimo perso prima le partite, poi fossimo stati penalizzati, avessimo cominciato a vincere, giocando sempre alla stessa maniera, questa Juve avrebbe fatto schifo uguale. Però, non avrebbero potuto tirare in ballo la scusa della penalizzazione. Che non può essere tirata in ballo. Perché prima della partita, anche subito prima della partita a Dazon, oltre che nei giorni scorsi, Allegri ha detto che non dobbiamo pensare a quello che c'è fuori dal campo. Che non dobbiamo farci condizionare, che dobbiamo stare concentrati solo sul campo. Adesso l'ha anche ripetuto. E allora non c'è l'alibi del contesto, della situazione, come scrivono su certi giornali, senza mai criticare Allegri. Senza mai criticare Allegri. Ma lo vedete anche dalle risposte che lui dà di contro alle domande. Che domande gli hanno fatto? Non lo hanno minimamente messo in difficoltà. Fortunatamente ieri su Dazon non c'era Barzagli. Almeno questo ce l'hanno risparmiato. Non è sostenibile una prestazione come quella che abbiamo fatto nel secondo tempo per tutti i 90 minuti. Quindi non possiamo fare per tutti i 90 minuti quell'intensità. Pensate, dopo un anno e mezzo, oltre metà stagione, ancora non possiamo neanche pretendere di fare una partita per 90 minuti intensa. Però tutte le altre squadre contro di noi. E non solo la possono fare. Noi siamo l'unica squadra che non la può fare. Chissà perché. Ma non possiamo neanche farci infilare la difesa schierata, concedere questo gol e concedere anche altre situazioni. Dobbiamo lavorare perché entrano troppo facilmente. Significa che avete lavorato male, no? Significa che avete lavorato male, malissimo. E come mai avete lavorato male, malissimo? Di chi è la colpa? Vista la situazione, molto preoccupante. Ci saranno dei provvedimenti? Bisogna prendere dei provvedimenti? Oppure così, chi ha lavorato così male a un certo punto comincia a lavorare bene? Così. Schiocchia le dita. Adesso lavoro bene? Senza poi neanche più la concentrazione mentale, con giocatori che sono spaisati in campo da un anno e mezzo, perché fuori ruolo, senza tattica, e adesso smarriti anche rispetto agli obiettivi stagionari. Auguri. Auguri per il lavoro da fare. Dobbiamo pensare a lavorare sul campo. Chi non è in grado di fare questo, è normale che stia fuori. Dobbiamo fare punti. Ora ne abbiamo 23. Ai ragazzi ci ho sempre detto 38 punti, ma la classifica dice 23. E quindi dobbiamo lavorare su quella classifica momentaneamente reale, dopo la battosta di oggi. Serve un esame di coscienza e riprendere con rabbia e cattiveria, perché giovedì è da dentro fuori. Quindi chi non è in grado di resistere alle pressioni esterne, è normale che stia fuori. Quindi ha scaricato i giocatori. Allegri ha scaricato i giocatori. Ora, se lui con questa frase, con questa esternazione, ha voluto dare una sterzata, dare una strigliata, può darsi che ci sia riuscito, ma secondo me ha fatto un'altra cosa. Ha spaccato ancora di più lo spogliatoio. Ieri, ripeto, i giocatori sono rientrati in campo dopo l'intervallo, per inizio o secondo tempo, totalmente smarriti, spaesati, impauriti. Questo significa che l'allenatore non sa comunicare quello che deve comunicare. Sbaglia la formazione, sbaglia i cambi, sbaglia gli allenamenti. E quindi i giocatori sono già smarriti di loro. Se poi lo spogliatoio era spaccato, con queste cose si spacca ancora di più, si allontana ancora di più, si aumenta ancora più la distanza tra i giocatori. E l'allenatore, lui che fa, dice anche questa cosa. E allora, come si può andare avanti? È chiaro che adesso l'allenatore va rimosso immediatamente. Perché chiunque può fare meglio di Allegri, nel senso proprio di fare punti, e di far cominciare questa squadra a giocare bene, a difendere meglio e ad attaccare meglio, per segnare di più perché il potenziale ce l'abbiamo e subire molto di meno. No, ma andiamo avanti. Andiamo avanti. Come ho detto, buongiorno a tutti quelli che hanno parlato per tanto tempo e ci hanno detto che Allegri è il migliore. Adesso dateci la vostra versione dei fatti. Quindi scaricati i giocatori da parte di Allegri. La Coppa Italia e l'Europa League non sono prioritarie perché tutte le partite sono prioritarie. Altrimenti entri in un vortice che non esci più. Bisogna uscirne velocemente. Abbiamo fatto tre partite e un punto con dieci gol presi. Al gruppo ho detto le stesse identiche cose che ho detto a voi ora perché Allegri si è presentato in ritardo davanti ai microfoni di Dazon. Milik ha sentito tirare, quindi sarà sicuramente fuori, ma abbiamo recuperato Vlaovic che sta bene. Benissimo. Ken non ha giocato bene come tutti nel primo tempo, ma finora ha fatto gol. Sono giocatori che sono in grado di fare altre prestazioni e di ottenere altri risultati. Quindi fatemi capire, da una parte Allegri svilisce i giocatori con il suo pessimo lavoro e lo si vede in campo. Poi gli scarica la responsabilità, poi però dice sono giocatori in grado di fare altre prestazioni e altri risultati. E quelli che continuano a stendere i tappeti rossi sotto i piedi di Max criticano i giocatori, anzi li insultano e danno la colpa a loro. Quindi mettiamoci d'accordo perché poi dobbiamo essere uniti. Dobbiamo essere uniti, però si dicono queste cose totalmente caotiche e contraddittorie. Infine, sempre a Dazoni, in questo momento sono arrabbiato per forza perché abbiamo perso in casa e non avevamo ancora perso in casa. Non avevamo ancora perso in casa? Mi sembra che abbiamo perso in Champions League in casa. Ho sbagliato? Ricordo male? Mi sembra che in casa in Champions League abbiamo perso due partite, esattamente, contro il Paris Saint Germain e contro il Benfica. Mi pare, mi pare che abbiamo perso due partite. Comunque non avevamo mai perso in casa. In campionato non avevamo perso in casa, quindi cambia poco. contro una buona squadra, ma che è stata agevolata da noi, non possiamo assolutamente prendere quei due gol con quella facilità. Il problema sono i due gol e la facilità con cui li hai presi, non tutto il resto. Si riduce sempre tutto all'episodio perché così è più facile aver ragione, è più facile portare avanti le proprie argomentazioni. A JTV ha aggiunto il primo tempo è stato bruttissimo, abbiamo preso gol facili, il primo da fallo laterale, quindi dobbiamo rimetterci con la testa, da domani rimetterci al lavoro e avere una reazione completamente diversa. Finora ho detto 38 punti, allora invertiamo la cosa, visto che non ha funzionato, 23 punti e la classifica reale. Dobbiamo farne tanti per salvarci. Milik, attenzione che a JTV ha detto Milik sicuramente avrà qualcosa e starà fuori non so per quanto. Ah, ma è un medico lei? Ah, non lo sapevo, cioè, grandissimo. Quando tu non sai proprio cosa dire e dici letteralmente la qualunque. Ma parla come allena. Il problema è che parla come allena. Veniamo invece in conferenza stampa perché spiega meglio questo discorso di passare da 38 a 23 punti. È un momento delicato ed è normale. No, non è normale che sia un momento delicato perché se tu fossi un allenatore bravo e la squadra fosse quindi forte di riflesso alla tua bravura e al tuo lavoro non ce ne fregheremmo nulla dei 15 punti di penalizzazione. Ho già detto che il Napoli se gli toglie 15 punti per penalizzazione è comunque quarto-quinto, quarto-quinto non nella seconda metà di classifica. Le cose esterne non devono riguardarci. Dobbiamo riprendere a lavorare e avere un'attenzione diversa, un approccio diverso all'interno della partita. È tutto un problema mentale, mentale. Allora andate dallo psicologo, non dall'allenatore. Non possiamo concedere il primo gol su rimessa laterale perché lui deve trovare degli slogan. No, adesso tutti a dire eh, ma abbiamo preso gol su rimessa laterale. Lo dice 50 volte e quindi tutti quanti credono a questa versione dei fatti. Nel secondo tempo abbiamo fatto un buon secondo tempo. Avete visto un buon secondo tempo? Sì, forse un'altra partita, ma non certo. Forse nel buon secondo tempo del Monza, ma non della Juventus. Ma non è bastato perché abbiamo fatto un brutto primo tempo. Alibi e scuse non ce ne sono. Bene, alibi e scuse non ce ne sono. Però sta dicendo che comunque i giocatori non sono mentalizzati, perché l'ha detto in vari passaggi. Sta dicendo non possiamo prendere gol sul fallo laterale. Quindi chi è che cerca Alibi e accampa scuse? Non io, certo non io. Dobbiamo metterci la testa e la responsabilità. Giovedì è da dentro fuori. Dobbiamo essere consapevoli mentalmente che la classifica dice 23 punti. Dobbiamo fare punti salvezza come minimo perché questa è la realtà. Se no ci facciamo male. Non siamo stati capaci di mentalizzare i 38 punti e allora mentalizziamo la classifica reale. Ecco chi ha spiegato. Cioè lui ha detto la classifica dice 38 e quindi lui tutto baldanzoso prima della partita con il Monza ma noi, anzi, aveva detto addirittura noi saremmo a 40 punti perché ci hanno anche tolto due punti per errore tecnico contro la Salernitana. Quindi siamo a 40 punti quindi saremmo secondi dietro solo a questo Napoli che però sta facendo cose straordinarie. Che fine ha fatto questa narrazione? Che fine ha fatto questa retorica? è stata sparita. Adesso si deve dire no perché non ha funzionato e quindi significa che hai fatto un danno ai giocatori. Significa che non sei stato bravo a comunicare ecco la preparazione mentale e l'approccio mentale che dovevano avere. Ti lamenti dell'approccio mentale ma l'hai distrutto tu l'approccio mentale con questa storia dei 38 punti li hai mandati in confusione. Adesso ci dobbiamo concentrare sulla classifica reale e dobbiamo raggiungere i punti salvezza? Ecco la frase sui punti salvezza ha generato molte polemiche da parte dei tifosi e io però devo dirvi che credo che questa sia la frase più onesta che abbia pronunciato Allegri da quando è tornato perché è la verità ma il problema non è che Allegri ha detto che dobbiamo fare i punti salvezza dopo che pochi giorni prima aveva detto ho ricalcolato la quota Champions quando era la richiesta 9 punti ho calcolato quota Champions poi sono diventati 15 ho ricalcolato la quota Champions e quindi tutti grande Max che non si perde d'animo nelle sciagure e vede sempre il lato positivo ci porterà lontano adesso dice dobbiamo fare i punti salvezza il problema non è che l'ha detto il problema è che è vero il problema è che è proprio così noi dobbiamo fare i punti salvezza ed è per questo che va cacciato perché con lui retrocediamo retrocediamo e la salvezza della Juve oltre alla salvezza proprio in classifica aritmetica della non retrocessione è la cacciata di Allegri la salvezza della Juve è Allegri out il prima possibile e andava fatto molto tempo fa molto non andava mai ripreso ma dopodiché andava fatto molto tempo fa troppo tempo è passato ma non è mai troppo tardi non è mai troppo cioè o meglio a un certo punto potrebbe diventare troppo tardi però per il momento non è tardi lo si può ancora fare e quindi appunto questo discorso adesso che dobbiamo pensare alla classifica reale che è quello che valiamo in realtà il primo tempo non potevo cambiare tutti dice perché è stata la prima volta che hai fatto tre cambi nell'intervallo beh non potevo cambiare tutti bisognava cambiarli tutti e magari cambiarmi anche io perché faccio parte della squadra ma lo aggiunge dopo e per carità ammissione magari di responsabilità anche senza chiedere scusa ma magari si fosse cambiato però che cosa vuol dire li dovevo cambiare tutti ma vi rendete conto cioè poi dice vabbè mi dovevo cambiare anch'io ma vi rendete conto che vuol dire li devo cambiare tutti cioè proprio mancanza di rispetto ai giocatori e significa anche ammissione di totale disastro in allenamento un dirigente che sente delle frasi simili va dall'allenatore e dice ma che cosa stai dicendo vuol dire che voi siete del panico totale no perché se è così io ti caccio perché dobbiamo salvare la stagione che significa li dovevo cambiare tutti la formazione l'ha fatta lui i giocatori li ha allenati lui per una settimana per una settimana e non hanno lavorato bene anzi hanno lavorato evidentemente malissimo oltre agli infortunati di cosa parliamo e dobbiamo ancora dire che non è colpa sua lo dice anche lui a momenti lo dice quasi 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 lo dice anche lui che è colpa sua anche se lo dice solo per evitare di sembrare arrogante quando dice li dovevo cambiare tutti e non li potevo cambiare tutti cambiarli tutti cioè fanno tutti schifo praticamente e ne ho cambiati tre per dare più ampezza e per essere più aggressivi davanti tutto qui è stato un buon secondo tempo ma non è bastato abbiamo tirato tantissimo in porta e loro non hanno mai tirato non si sono mai avvicinati all'area ma non deve bastare ma non è neanche vero il tiro di Petagna ce lo siamo dimenticato è entrato a pascolare tranquillamente dentro l'area di rigore ed è come che il Monza ha attaccato e si è presentato vicino all'area anche nel secondo tempo non avrà tirato ma si è presentato vicino all'area quindi a parte la mistificazione della realtà rispetto alla prestazione del Monza sminuita grandissima mancanza di rispetto di Allegri nei confronti di Palladino e del Monza hanno fatto una grande prestazione ma è stata facilitata da noi ma chi te l'ha detto ma casomai sono stati talmente bravi che noi non siamo stati in grado proprio di fare nulla casomai è il contrario e poi anche la mistificazione della realtà rispetto a abbiamo tirato tantissimo si sono stati fatti tanti tiri quanto è? 8 tiri nello specchio la gran parte dei quali però deboli passaggi al portiere il portiere di Gregorio ha fatto un paio di miracoli ma un paio non 10 non 15 non 8 sono stati tiri fatti male già dal primo tempo e poi questo fatto che abbiamo tirato tantissimo dovrebbe servire a legittimare che cosa a giustificare che cosa che siamo stati sfortunati e che è stato bravo il portiere che ha fatto la partitona contro di noi ma dai il focus di oggi deve essere sul campionato perché vincere oggi sarebbe stato molto importante ci mancherebbe non deve essere focus sulle coppe perché se ti focalizzi sulle coppe poi perdi di vista il campionato e non va bene dobbiamo fare bene in campionato e meglio in coppa giovedì sarà difficile dobbiamo cercare di fare una partita completamente diversa non so come faranno perché mancano già tre giorni come fai a fare una partita completamente diversa se questi sono i reali valori di questa squadra nel secondo tempo c'è stata un'altra partita non siamo riusciti a fare golle l'avevamo fatto ma Bremer ci ha messo la testa il portiere ha fatto belle parate poi abbiamo avuto situazioni favorevoli ma sono figlie del primo tempo dice sempre abbiamo avuto situazioni favorevoli tutti episodi quindi il portiere Bremer adesso è colpa di Bremer valuteremo il ritiro momentaneamente non ho deciso nulla con la società cioè non sapeva neanche lui cosa dire sull'eventuale ritiro in una situazione come questa poi però ha risposto il ritiro però serve quando ci sono situazioni che vanno valutate prima qui secondo me ha detto proprio così ma non so cosa volesse dire ora solo responsabili ora dobbiamo essere solo responsabili e poi stare sempre in ritiro non serve a niente ad Allegri non piace il ritiro perché deve lavorare di più e ha meno tempo libero questo è il problema se fosse necessario non lo farebbe comunque il primo tempo è figlio della partita contro il Napoli dove abbiamo staccato la spina dopo il 2 a 1 ancora con la storia che stacca la spina lo si diceva anche quando vincevamo gli Scudetti a un certo punto la Juve stacca la spina certo non sanno cosa fare in campo con il Monza abbiamo preso gol su angolo in Coppa Italia con l'Atalanta è stata una partita nervosa abbiamo commesso errori no ma non dobbiamo cercare alipi e scuse aveva detto pochi minuti prima è un momento particolare più che difficile dobbiamo lavorare per fare meglio né alipi né scusanti ci dispiace perché lo stadio era pieno e i tifosi ci hanno aiutati fino alla fine ci dispiace è proprio è nell'anticamera di chiedo scusa ho sbagliato è colpa mia ma quella porta lì non si apre mai resta nell'anticamera quindi ancora non ci siamo dai Max ce la puoi fare un altro po' di sforzo e di cortomuso puoi mettere il musetto davanti oltre quella soglia e dirci scusatemi ho sbagliato è colpa mia e magari aggiungi anche me ne vado non mi sento assolutamente solo perché la società è presente sono totalmente sereno ma sono arrabbiato come tutti per il primo tempo sono totalmente sereno perché tanto chi lo schioda poi Pogba oggi era a disposizione volevo farlo entrare ma la partita è andata così giovedì avrà la possibilità forse anche dall'inizio e beh allora se Pogba parte titolare ragazzi sospendiamo tutte le obiezioni le critiche le lamentele perché Pogba è titolare anzi adesso oggi escono pure le motivazioni della sentenza quindi già mi aspetto i primi giudizi frettolosi qualcuno che dirà ecco lo scandalo guardate cosa hanno scritto chi magari non ne capisce nulla a tal proposito io ve ne parlo con calma domani mi prendo il tempo di leggerla con calma comprenderla con calma e domattina vi dico la mia sulle motivazioni della sentenza sperando che ci siano tanti vizi perché così ci ridanno questi punti anche se forse non sarebbe meritata la cosa e quindi che facciamo ritorniamo a fare la protesta disdetta Dazon disdetta Sky mi raccomando mi raccomando uniti nella protesta ma di questa dicotomia tra la protesta dei tifosi e le critiche che vengono assorbite male che non vengono mal sopportate dai tifosi che dicono che dobbiamo protestare vi parlo nel nuovo video sulle scuse degli allegriani che uscirà in giornata imperdibile e quindi grazie per la vostra attenzione buon dibattito nei commenti mettete like al video se vi è piaciuto se vi è piaciuto soprattutto il mio sarcasmo perché oggi che è lunedì per come stiamo messi non ho altro modo di affrontare la cosa per evitare che mi vengano ad arrestare mentre registro e quindi naturalmente continuate a seguirmi abbonatevi al canale a partire da 99 centesimi al mese per avere tanti vantaggi sapere in anteprima quando escono i miei video partecipare a tanti eventi live con le chat riservate agli abbonati soprattutto durante le live reaction e i commenti post partita e tanti altri vantaggi e fate un salto come già detto anche sul mio secondo canale Avsim Out primo link in descrizione per video brevi sul calcio e sulla Juventus ci vediamo molto presto e sempre forza Juve grazie a tutti